Buongiorno e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Telestense. Domani sarà il giorno dell'introduzione dell'obbligo di Green Pass per i lavoratori dipendenti e pubblici. A Ferrara, come vi avevo detto nei giorni scorsi, c'è uno sciopero annunciato dalla Fisi in ambito sanitario, ma c'è anche Tipper che ha comunicato il rischio che alcune corse domani non vengano effettuate, alcune corse del servizio di trasporto pubblico, ma ne parleremo a breve e parleremo anche del 118 che torna in centro a Ferrara sabato prossimo per insegnare ai cittadini il massaggio cardiopolmonare e poi vedremo le immagini della mostra cicatrici in corso a Ferrara. Ma dobbiamo aprire questa edizione con l'incidente mortale che è avvenuto ieri sera nell'Argentano. Un anziano di 89 anni, Francesco Carati, è deceduto dopo essere stato investito da un'auto. Erano le ore 19 quando Carati stava attraversando via Cardinala nella frazione di Campotto, un'auto sopraggiungeva e poi è avvenuto l'impatto illeso. Il conducente del mezzo sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con un'ambulanza che non hanno potuto fare nulla per salvare la vita. All'89enne i carabinieri della stazione di Argenta sono al lavoro per ricostruire la dinamica del sinistro. E adesso però torniamo in città per cambiare totalmente argomento. È stato aperto ieri il nuovo parcheggio con 117 nuovi posti auto a due passi dalla stazione ferroviaria di Ferrara. È questo il parcheggio realizzato da Rete Ferroviaria Italiana in un'area di proprietà di FS. Il parcheggio sarà gestito da Metropark, la società controllata da FS Sistemi Urbani, che ha investito 400 mila euro nella nuova infrastruttura fondamentale. La collaborazione con il Comune di Ferrara durante tutte le fasi di progettazione e costruzione dell'opera. Il nuovo parcheggio è un tassello importante del piano di riqualificazione dell'area finalizzato a potenziare il ruolo di hub intermodale della stazione. Il parcheggio è disponibile tutti i giorni, 24 ore su 24, al costo di un euro l'ora nella fascia oraria dalle 6 di mattina a luna di notte e 10 euro per l'intera giornata. Per chi sceglierà l'abbonamento la tariffa sarà di 40 euro, mentre è ridotta per i possessori di abbonamento ferroviario. E ora però dobbiamo passare alla cronaca, perché due agenti sono stati aggrediti nella casa circondariale di Ferrara e i sindacati chiedono ancora una volta più sicurezza. Ancora un'aggressione nel carcere di Ferrara, a darne notizie ai sindacati di polizia penitenziaria. Un detenuto ha preso a calce e pugni due agenti di polizia ed entrambi hanno riportato ferite giudicate dai medici del pronto soccorso di Cona guaribili in sei giorni. L'aggressione, spiega il sindacato Sinappe, sarebbe avvenuta in seguito ad una protesta per alcune bombolette di gas utilizzate dai detenuti per cucinare. A quanto pare l'uomo non avrebbe apprezzato l'invito dell'agente a non farne un uso improprio e avrebbe aggredito il primo agente di polizia e successivamente anche il secondo intervenuto per placare lo scatto d'ira del detenuto. La carenza di personale oramai è cronica all'interno della casa circondariale di Ferrara e più volte i sindacati hanno richiesto una riorganizzazione del lavoro mai concessa. Sottolinea il Sinappe, negli istituti estense sono purtroppo sempre più frequenti questi attacchi diretti al personale e la situazione è al limite, spiega il sindacato. Dal 2014 ad oggi, dopo l'apertura delle stanze detentive, con l'introduzione della vigilanza, le aggressioni nelle carceri sono triplicate sia a livello nazionale che nelle varie strutture locali, sottolinea l'altro sindacato di polizia penitenziaria, Sappe. Nel 2019 a Ferrara ci sono state 33 aggressioni, 24 tentativi di suicidi, un suicidio, 89 gesti di auto-lesionismo. In Emilia-Romagna ci sono state 900 aggressioni, 1.381 gesti di auto-lesionismo, 137 tentativi di suicidio, 4 suicidi. Riteniamo, continua il Sappe, che la permanenza dei detenuti all'aperto debba divenire un sistema meritocratico premiale per i soli meritevoli. Coloro che aggrediscono il personale devono restare nelle sezioni chiuse, conclude il sindacato di polizia penitenziaria Sappe. Obbligo di Green Pass da domani, dal 15 ottobre, per i lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico. Nel Ferrarese è già annunciato lo sciopero da parte del sindacato Fisi all'ospedale Sant'Anna e in azienda USL. Le direzioni aziendali garantiscono i servizi essenziali, ma non quelli programmabili. Possibili disagi anche nei trasporti Tiper al lavoro per limitare gli inevitabili disagi all'utenza. Al momento 88 lavoratori Tiper nei servizi di Bacino, di Ferrara e Bologna non hanno il Green Pass e per sopperire all'eventuale assenza dal lavoro è in corso un'operazione di assegnazione del maggior numero di turni di servizio. Scrivono da Tiper, difficilmente potranno essere garantite tutte le corse, dicono, dall'azienda dei trasporti, la cui priorità rimangono, dicono, la copertura dei collegamenti utilizzati dall'utenza pendolare e scolastica. Adesso parliamo della situazione coronavirus, ma della difesa del medico indagato per ipotesi di reato per omicidio colposo e omissione di soccorso è il medico che ha istituito questa difesa in un'intervista alla pressa.it, un quotidiano telematico modenese, Alberto Dallari, e questo è il nome del medico, consigliò le cure anti-covid al centese di 68 anni non vaccinato e deceduto pochi giorni fa all'ospedale di Cona dopo diverse settimane di ricovero in terapia intensiva. Dallari ora è sotto indagine la procura di Ferrara e al lavoro per ricostruire i rapporti tra il medico e Mauro Gallerani, appunto il paziente poi deceduto medico che ha raccontato la propria versione dei fatti al quotidiano appunto online modenese la pressa.it, ne sentiamo un estratto. La presa a carico del paziente è stata indiretta tramite un'amica di questo paziente, un'amica che mi conosceva perché ho curato altri pazienti in quella zona, sempre per il covid. E questa amica ha dato il mio nome a Mauro e Mauro mi ha contattato in quanto febbrile e con un tampone positivo. Ma ha qualcosa da riproverarsi? Alla lettura di quelle accuse? Allora, alla lettura di quelle accuse lì, no. Io dovevo forse iniziare una terapia subito più pesante per la gravità del paziente, ma questo lo si sa sempre dopo. Non c'è secondo me assolutamente nessuna correlazione con il bioperato. Come detto c'è un'indagine in corso e ovviamente vi aggiorneremo su tutta questa vicenda che sta proseguendo. Cambiamo totalmente argomento adesso e parliamo della riduzione del disagio abitativo perché sono ancora disponibili risorse per sostenere chi vive in condizioni di criticità economica e sociale e ha difficoltà a pagare l'affitto a oggi nel distretto centro-nord nel quale, compresa Ferrara, sono state erogate risorse per 17 mila euro, nel distretto ovest per 12 mila euro e nel distretto est circa 12 mila, la stessa cifra. Il distretto centro-nord ha visto la presentazione di sette istanze ed è dove ne sono state presentate di più però questi sarebbero numeri davvero modesti a fronte di una disponibilità iniziale di circa 400 mila euro di fondi regionali da utilizzare appunto a favore di chi ha difficoltà a pagare i canoni che è anche sfratti in esecuzione. Così è intervenuta l'assessore alle politiche abitative del comune di Ferrara, Cristina Coletti durante una conferenza stampa ieri in municipio per fare il punto sull'applicazione del protocollo d'intesa sulla riduzione del disagio abitativo ed è intervenuta insieme ad alcuni dei rappresentanti che vedete in queste foto delle associazioni sindacali degli inquilini ed è insieme anche alle associazioni che hanno sottoscritto il documento a fine luglio in prefettura. Adesso però passiamo all'agricoltura perché ieri sera su Telestense è andata in onda la nuova puntata con i piedi per terra oggi puntata che trovate disponibile anche su Youtube si è parlato anche di macchine operatrici in scena dal prossimo martedì 19 ottobre a Bologna Feiere per la 44esima edizione di EMA International un parco macchine quello attualmente in uso nelle aziende agricole che via via dovrà essere sostituito con mezzi di nuova generazione sostenibilità economica e compatibilità ambientale delle lavorazioni sono un elemento fondamentale nell'attività agricola sentiamo La grande rassegna della meccanica agricola riserva molto spazio alle macchine e attrezzature per ogni tipo di lavorazione dalla ratura fino alla raccolta e al trasporto dei prodotti La rassegna si svolge in un momento dinamico per il mercato le industrie italiane hanno registrato nel primo semestre incrementi molto consistenti e prevedono una chiusura d'anno inattivo Tra le grandi rassegne di meccanica agricola EMA International è quella che offre la più vasta scelta di macchine operatrici e attrezzature mezzi per la lavorazione del terreno per i trattamenti alle colture per la raccolta e il trasporto dei prodotti per l'irrigazione e per gli allevamenti collocate nell'ambito della fiera all'interno dei settori secondo, quarto, quinto, sesto, settimo, decimo e undicesimo sono presenti in moltissimi modelli per soddisfare ogni esigenza di lavorazione La 44esima edizione dell'EIMA spiega Federuna Coma la federazione dei costruttori che organizza l'esposizione si svolge in un momento particolarmente dinamico per l'industria italiana del comparto che registra incrementi di vendite sia in Italia che all'estero EIMA è la fiera che più di ogni altra al mondo dà la visibilità necessaria a tutte queste realtà offrendo loro una grande opportunità di business nei giorni dell'esibizione D'altra parte offre al visitatore una completezza di visita unica nel suo genere per chi è interessato agli attrezzi per l'agricoltura specializzata La sostituzione delle macchine operatrici e delle attrezzature attualmente in uso presso le aziende agricole con ammezzi di nuova generazione è un processo necessario perché la sostenibilità economica e la compatibilità ambientale delle lavorazioni sono divenute un elemento fondamentale nell'attività agricola Le macchine esposte ad EIMA International presentano sistemi di controllo elettronico delle funzioni sensori di monitoraggio tecnologie ISOBUS in grado di ottimizzare il rapporto tra l'attratrice e l'attrezzatura portata o trainata tutte tecnologie capaci di rendere l'uso delle macchine sempre più perfezionato e rispettoso dell'ambiente Il 118 scende in piazza Ferrara sabato prossimo del 16 di ottobre l'esercitazione e le testimonianze per la rianimazione cardiopolmonare sentiamo Per salvare una vita metti le mani sul cuore e l'appello lanciato in occasione di Viva la settimana per la rianimazione cardiopolmonare giunta la nona edizione che quest'anno a Ferrara torna col 118 che scende in piazza sabato 16 ottobre in Galleria Matteotti a Ferrara dalle ore 11 alle 13 e 30 e dalle 14 e 30 alle 18 gli operatori del 118 dell'azienda USL di Ferrara torneranno in campo per promuovere il corretto massaggio cardiaco tra la popolazione I cittadini saranno invitati a partecipare alle esercitazioni sulle tecniche del massaggio cardiaco su manichini con la supervisione degli istruttori del 118 a disposizione per fornire informazioni sull'arresto cardiaco come riconoscerlo e come affrontarlo la giornata è curata dai professionisti infermieri autisti del 118 dell'azienda USL insieme ai volontari delle associazioni di pubblico soccorso del territorio ferrarese con il patrocinio del comune di Ferrara e la partecipazione di Telestense ogni anno 400.000 persone in Europa 60.000 in Italia muoiono per arresto cardiaco improvviso il 70% degli arresti cardiaci avviene in presenza di altre persone che potrebbero iniziare subito le manovre di rianimazione cardiopolmonare ma ciò accade solo in 15% dei casi perché chi è accanto alla vittima non è formato non sa riconoscere un arresto cardiaco oppure non si sente in grado di intervenire secondo una stima conoscendo le RCP si potrebbero salvare fino a 200.000 vite in un anno e chiuderà domenica prossima il 17 ottobre la mostra fotografica itinerante allestita all'ex refettorio di San Paolo a Ferrara Cicatrici il titolo della rassegna di foto sentiamo e vediamo anche le immagini nell'ambito dell'ottobre rosa ho promosso e ho avuto l'appieno appoggio dell'amministrazione la mostra che è in corso tuttora nell'ex refettorio del Chiostro di San Paolo gli assessori che sono stati coinvolti sono l'assessore Coletti l'assessore Travalli naturalmente l'assessore Cusiac come presidente della commissione pari opportunità e l'assessore Gulinelli in quanto secondo me la mostra è estremamente significativa è un tema che le donne affrontano con grande difficoltà e fanno molta fatica a mettere in mostra una parte particolarmente importante per le donne stesse cioè il seno quindi la mostra che si chiama Cicatrici attraverso il dono che hanno fatto le associate Andos e io stessa hanno messo in mostra le loro cicatrici che sono cicatrici che si vedono e che le potrete dico ammirare secondo me perché è un dono per tutte le donne ma hanno messo in mostra anche il coraggio nell'affrontare questa malattia e quindi danno speranza a chi tutti i giorni magari deve andare in ospedale per fare la chemioterapia deve fare terapie che possono sicuramente dare dei disturbi ma tutte le donne ce la possono fare un problema che ha grossa rilevanza sociale perché solo nella nostra provincia e questo mi pare un dato importante poi nostro l'incidenza è di circa 400 nuovi casi all'anno per cui pensiamo all'importanza di questo tumore con le ricadute che ha non solo sulla paziente sulla famiglia e sulla società anche perché purtroppo molto spesso questa neoplasia colpisce persone di età molto giovane di far comprendere che se si lotta contro questa malattia che non possiamo naturalmente evitare noi possiamo farcela perché attraverso le terapie che oggi vengono offerte sempre più personalizzate attraverso i supporti anche sociali e tra cui anche le associazioni intervengono in questo la donna può vincere la sua battaglia per questo che questa mostra insomma ha abbiamo già visto dai primi giorni dell'apertura ha avuto un grande riscontro non solo di presenze di numeri ma di riscontro umano di commenti molto favorevoli anche se spesso commenti di commozione ecco e di empatia con chi ha fatto ha partecipato a queste a fare queste immagini devo ringraziare moltissimo perché l'idea non è affatto mia noi l'abbiamo solo promossa ecco i fotografi Stefano Pesaro e Federica Veronesi che loro hanno proposto a me come Andos di fare qualcosa per le donne invito le persone che non sono ancora andate alla mostra a visitarla la mostra non si fermerà a Ferrara siamo intenzionati a portarla sia in regione e forse anche a Roma hanno partecipato la consigliera Marcella Zapaterra l'onorevole Boldrini e mi hanno promesso che ci aiuteranno in maniera che venga diffusa Euro 3 Games 2021 a Ferrara lo sport abbatte ogni ostacolo e questo è il messaggio che i campionati delle persone con sindrome di Down hanno lasciato a Ferrara città che la settimana scorsa ha ospitato tantissime gare vediamo allora una raccolta dei momenti e delle immagini più belle degli Euro 3 Games bravo 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 super Super! I'll carry you away Carry you away I'll carry you away I'll carry you away So far away Some search for gold Some dragon to sleep Heaven behold It's just up the road Show me the way I'll carry you away I'll carry you away Carry you away I'll carry you away I'll carry you away I'll carry you away 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 E con questo è tutto, grazie e buona giornata. Grazie a tutti.